Mamma, dove vai? Vai, autobus! Sistemate questo subito! Cosa stai facendo? Non posso lasciarla da sola! Va bene, ma cosa preferisci? Lei o me? Va bene, preferisco te! No, mamma! Ti prego, non lasciarmi! Lasciami andare! Devi essere coraggiosa, ok? Una vera donna! D'ora in poi vivrai da sola, perché andrò a vivere con il mio amore! No, mamma! Per favore, ho bisogno di te! Non mi piaci, capito? Eloisa, basta così! E stai tranquilla, va bene? Verrò a trovarti ogni tanto! E non ti sto nemmeno abbandonando per strada! Mamma! Permesso, ragazzina! Ciao, professoressa! Sono arrivata! Eloisa, ti sembra questa l'ora di arrivare? Spiegami cosa ti sta succedendo! La lezione di educazione fisica è già finita! Mia madre! Tua madre è un corno! Basta chiacchiere! Eloisa, e vieni tutta sporca e malconcia! Ma insomma, ragazza! Guarda, non ti lascerò seguire questa lezione! Puoi tornare indietro! Se solo sapesse che mia madre mi ha abbandonato... Eloisa! Cosa ci fai ancora qui? Non ti ho detto che potevi andartene! Professoressa, devo dirle una cosa! Eloisa, non voglio sapere nulla! Vai a casa e di a tua madre di lavarti i vestiti! Oh, non ho più una mamma! Mamma, sei tornata! Oggi la mia insegnante non mi ha fatto entrare, perché la mia divisa era sporca! Allora devi svegliarti prima per lavare i tuoi vestiti! Ma mamma, hanno tagliato l'acqua e non c'è sapone! Oh mio Dio! Sai solo lamentarti! È questo che mi fa arrabbiare! Mamma, cosa stai facendoli? È cibo? Non mangio da ieri! Senti, cucina, arrangiati, ok? Ora me ne vado! Mamma, portami con te! Portarti con me? Non ci penso proprio, siamo molto più felici senza di te! Meno male che è rimasta quest'acqua nella tanica! Almeno mi toglierà la sete! La mia insegnante non accetterà del cibo! Wow, questa torta è davvero buona! E cosa c'è che non va in te? Non mangi? Sì, sono un po' triste, sai? Siamo qui a nutrirci? E penso che Eloisa sia là senza nulla da mangiare! Di nuovo questo discorso! Non mi lasci mai mangiare in pace! Parli sempre di quella ragazza! Dimenticala! Ma come posso dimenticarla? È mia figlia! Senti, visto che non vuoi dimenticarla, allora vattene da qui e dimenticati che esisto! No, amore mio, ti prego! Non voglio che mi lasci! Ascolta, allora dimentica quella ragazza! Perché non voglio stare con chi ha figli, chiaro? Preferisco una donna single! Va bene, amore mio, come vuoi tu! Dai, calmati! Ah, va bene! Ora vai a prepararti qualcosa da mangiare! E lava questi piatti! Wow, questa torta era davvero buona, eh? E si può sapere cosa stai facendo? Ne hai avanzato un po', volevo portarne un pezzo a Eloisa! Ascoltami bene, guarda! Non ho comprato questa torta perché tu la portassi a lei! È così difficile da capire! Il tuo compito è lavare i piatti, pulire la casa... Non farmi perdere la pazienza! Ma... niente, ma, capito? Fa solo quello che ti dico! Va bene! Perdonami, figlio mio! Oh, sei così comoda! Lo è davvero! Come ho potuto abbandonare mia figlia! Eloisa! Sono questi gli orari per arrivare? Per di più con questi vestiti sporchi e bagnati! È tutto quello che avevo oggi, professoressa! No, Eloisa! Non ci credo! Di nuovo questa storia! Che dramma! Mi chiedo se a casa tua non ci siano acqua e sapone per lavarti la divisa da sola! Va bene! Domani verrò con la divisa pulita e asciutta! Davvero, eh? Fammi un favore! Entra subito per piacere! Mamma, sei tornata! Oh, figlia mia! Stai andando a scuola, vero? Non ho perso neanche un giorno! Sei tornata a casa, quindi... Significa che mi ami ancora? Certo che ti amo, ma... Amo mio marito molto di più! Tieni, ti ho portato questo! Oh, mamma! Sei la migliore mamma del mondo! Da quanti giorni non mangi? Da quando te ne sei andata! Oh, figlia mia! Prometto di venire a trovarti più spesso, va bene? Perché non vivi qui, mamma? Cerca di capire! Mike non ti ama! Non ti accetta! Mamma, puoi venire con me! Non te lo ripeterò più, chiaro? È l'uomo che amo e voglio stare con lui! Mi prenderò cura di lui! Mamma, e io? E io come sto? Per favore, non andartene! Senti, Eloisa, io vado! Sta arrivando Mike! E vedi di lavare i tuoi vestiti! Fanno schifo! Va bene, mamma! Abbracciami! Mamma, sei la migliore mamma del mondo! Prima che tu vada, volevo solo dirti... È saltata la corrente! Non puoi sistemarla? Ah, lo sapevo che mi avresti chiesto qualcosa! Senti, sto per andarmene! Arrangiati! Mamma, come faccio a riparare questa corrente, eh? Lo so, una forchetta! Ecco, ora sì, la prima forchetta adesso funzionerà! Basta infilarla nel filo e via! Ciao, c'è qualcuno in casa? Sì, ciao, posso aiutarla? Cosa ci fai qui? Lei è la madre di Eloisa? Perché vuole saperlo? Non ha figli! Mi scusi, sto parlando con la signora? Sì, non conosco sua madre! È perché dovevo informarla! Le è successo qualcosa di molto tragico! Conoscete qualche parente? Sono sua madre, può parlare! Ha manomesso un cavo elettrico in casa e... Ha preso una scossa fatale! Per l'amor del cielo, posso dire che è una bugia? La prego, la prego! Senta, deve venire con me, d'accordo? Senta, lei non ci andrà, chiaro? L'abbandono di incapace è un reato, lo sapeva? Mi segua, per favore! Non mi sono mai piaciute comunque!